Benvenuti al telegiornale Rai della Basilicata. Il prefetto Campanaro ha sospeso dall'incarico Angelo Salinardi e altri tre consiglieri comunali di minoranza del comune di Ruoti finiti agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della procura di potenza. Due i filoni di indagine che si concentrano sugli affari e gli interessi politici dell'ex sindaco del comune Lucano principale accusato ipotizzati tra gli altri i reati di atti persecutori calunnia e corruzione. L'inviato Antonio Coronato. Dagli atti dell'inchiesta emergerebbe un vero e proprio sistema. Una macchina del fango messa in moto da Angelo Salinardi e alimentata da persone a lui vicine per screditare e minacciare Anna Maria Scalise e costringerla alle dimissioni in modo da tornare alle elezioni e riprendere in mano la gestione del comune. Innanzitutto con le denunce decine per contestare atti e decisioni della giunta. Accuse poi rivelate si infondate che puntavano a paralizzare l'attività amministrativa e come si legge nelle intercettazioni ad obbligare il sindaco a stare 20 anni in tribunale. Salinardi, Rosario De Carlo, Angelo Faraone, Rocco Antonio Gentilesca, i quattro consiglieri di minoranza del comune di Ruoti finiti ai domiciliari sono stati sospesi dall'incarico dal prefetto di potenza in applicazione della legge Severino. Alle azioni legali si aggiungeva la diffusione di notizie false su una presunta relazione extra coniugale della Scalise. Per trovarne le prove il sindaco era sottoposto ad un controllo continuo sia negli uffici comunali da parte di funzionari compiacenti sia nei pressi della sua abitazione con appostamenti e pedinamenti. Indagini illecite condotte con l'aiuto di un carabiniere che avrebbe fatto effettuare un accesso abusivo al sistema informatico per verificare i registri di un bed and breakfast. Il militare è una delle 16 persone finite ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta che ha anche messo sotto la lente gli affari di Salinardi cui è ricondotta la titolarità di alcune aziende dell'indotto Stellantis. Imprese che avrebbero ottenuto commesse e subappalti si indaga su 26 contratti grazie a mazzette ed altre utilità garantite ad importanti dirigenti di società appaltatrici della FCA. In particolare Marco e Alessandro Massano, padre e figlio, avrebbero ricevuto denaro e diversi benefits dall'utilizzo di un'auto di grossa cilindrata alla disponibilità di una domestica e di un giardiniere che prestavano servizio nella loro villa in provincia di Cuneo ma risultavano dipendenti di un'azienda riconducibili all'ex sindaco di Ruoti. Tra i 21 indagati c'è anche Marco Lomio, segretario regionale della Wilm. Secondo l'accusa avrebbe ottenuto l'assunzione della moglie presso una delle aziende di Salinardi garantendo in cambio la disponibilità a risolvere questioni sindacali. Lomio, che si dice convinto della correttezza del suo operato, dichiara di essere consapevole dell'assoluta estraneità a qualsivoglia reato e di attendere con la massima fiducia l'operato della magistratura.